Durante la sua lunga confessione nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno Alessandro Impagnatiello non ha mai mostrato preoccupazione, non una lacrima nessun pentimento, ma soprattutto non ha mai nominato il bambino che Giulia Tramontano, la sua compagna che lui ha ucciso con tre coltellate, portava in grembo da sette mesi. Entro questa settimana l'anatomopatologa Cristina Cattaneo, il medico legale del caso Iara, eseguirà l'autopsia sul corpo della 29enne, per capire quali tra i fendenti, due alla gola e uno al torace, sia stato quello mortale. Per accertare poi se sia vero, se si tratti di un'altra bugia di Alessandro, che Giulia si era ferita, seppure involontariamente con un coltello, prima di essere ammazzata. Ma l'anatomopatologo nominato dalla procura dovrà anche stabilire quanti giorni avesse il bimbo che la vittima portava in grembo. In base a quell'accertamento non si esclude che l'accusa da omicidio possa diventare duplice omicidio. Prima dell'autopsia, gli uomini del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri torneranno all'appartamento di Senago, alle porte di Milano, sotto sequestro dal primo giugno, dove è avvenuto il delitto. Dovranno cristallizzare la scena del crimine, ma anche trovare gli altri coltelli, oltre a quello indicato da Alessandro come arma del delitto, che si trovano ancora nella casa. Intanto, dai verbali delle dichiarazioni fatte agli inquirenti dalla 23enne italo-inglese, che con l'assassino aveva una relazione parallela emerge, che la sera del giorno in cui si era incontrata con Giulia per la prima volta aveva offerto alla ragazza di ospitarla a dormire. Ma lei non ha accettato e tornata a casa a Senago, dove ad aspettarla c'era Alessandro, che poco dopo il suo rientro l'ha uccisa.